Sindaco Trentino è passato un anno dalla prima intervista appunto da sindaco sulla terrazza panoramica di un albergo cittadino dove si dominava non a caso Catania. Cos'è cambiato in questo anno per Enrico Trentino e per la città? Per Enrico Trentino non so se anche gli ascolti interessi. C'è stata una trasformazione nella mia vita che è stata sovvertita in tutto, nei ritmi, anche nei ritmi di sonno e soprattutto. Nella gestione della quotidianità, nella possibilità di proseguire la mia attività professionale che ho fortemente contratto per dedicarmi interamente alla città. Per quanto riguarda il rapporto con i cittadini io mi auguro che stia trasmettendo il messaggio che a loro piace, cioè a dire di un'istituzione che non si freggia del ruolo che molto spesso è stato distante dalla cittadinanza ma che prova ad avvicinarsi, a far comprendere che in fondo siamo cittadini come tutti quanti gli altri e che non è certamente la fascia tricolore che ci rende differenti. E la città come è cambiata? Io percepisco una maggior disponibilità a partecipare ai percorsi di sviluppo di Catania, nel senso che questa è una città in cui per troppo tempo non è stato chiesto alla cittadinanza di avere un ruolo attivo nel cambiamento. Ma è chiaro che gran parte dei problemi dipendono proprio dall'incuria, dall'insipienza, dall'indolenza, dalla rassegnazione di molti nostri concittadini che hanno per troppo tempo ritenuto che la città fosse terra di nessuno e quindi le varie pratiche di degrado che noi ben conosciamo come quella dei rifiuti, come quella della mancanza di rispetto delle norme del codice stradale, tutto questo sono il frutto di un passato che si è consolidato nel tempo e che ha fatto sì che fosse terra di nessuno, come dicevo prima, e quindi una città all'insegna dell'anarchia. Adesso noi stiamo lavorando molto sulla pretesa del rispetto delle regole e la città lo sta percependo, nel senso che sono moltissimi cittadini che io fermo e a cui bonariamente chiedo una maggiore attenzione e tutti quanti finora mi hanno detto sempre si ha ragione, mi scusi. Questo fa capire che non c'è un rapporto che allontani il sindaco dei cittadini, ma anzi quasi viene considerato come una sorta di papà ulteriore, di papà maggiore o di fratello maggiore, anzi spero che non mi considerino troppo vecchio. E in questo credo, noto almeno, percepisco dai messaggi che ricevo, dai commenti che leggo sui social, sempre più adesione a questo clima costruttivo ma nello stesso tempo se mi si permette l'espressione è anche improntata all'umiltà, perché non notano che vi sia altezzosità, arroganza, superbia. E' quel discorso che faccio sempre, non sono il primo cittadino, sono il primo fra i cittadini, a me interessa che la gente mi percepisca come tale. A proposito di umiltà, è stato eletto con quasi il 66% dei consensi, se oggi ci fosse un referendum cittadino a distanza di un anno per giudicare il gradimento del sindaco Trantino, pensa che questa percentuale aumenterebbe o scenderebbe? No, non ne faccio previsioni, non mi voglio sostituire agli elettori, ai cittadini, quindi posso avere delle mie idee ma sono idee assolutamente fallaci perché è basato su alcune impressioni che sono positive, perché sono tantissimi cittadini che mi fermano, mi ringraziano e devo dire che è molto gratificante quando vengo fermato da qualcuno che mi dice grazie per quel che sta facendo e io non ho votato per lei e sono sempre più numerosi però non so se rispetto a questo campione ve ne sia anche un altro che magari potrebbe manifestare sentimenti di rancore devo dire per la verità che non è mai successo finora che qualcuno, e io cammino tanto per strade a piedi sempre da solo che qualcuno abbia insultato, abbia manifestato espressioni rancorose, mai, fino adesso mai magari sono tanti che lo pensano e che lo vorrebbero fare ma fino adesso nessuno l'ha fatto Prima parlava di rispetto delle regole di legalità diffusa, percepita, quotidiana, mattonella su mattonella di questa città una figura mitologica invincibile fino a poco tempo fa era quella dei posteggiatori abusivi che in quest'ultimo tempo grazie all'impegno dei carabinieri e della polizia di Stato sono controllati giornalmente anche quello è un segnale di legalità e i cittadini segnalano i posteggiatori abusivi è un segnale che la città ha raccolto, non è un aspetto banale Assolutamente, la ragione a lei non è un aspetto banale così come sono tanti gli altri aspetti non banali questo sentimento di maggior fierezza e consapevolezza del proprio ruolo da parte di molti catanesi alimenta una sensazione di maggior fiducia io devo dire che peraltro ho la fortuna di registrare un'assoluta sintonia con tutte le altre istituzioni con tutte le forze di polizia perché dalla polizia di Stato ai carabinieri alla guardia di finanza alla nostra polizia locale hanno veramente tutti impresso una maggiore accelerazione sul tema del rispetto delle regole e in questo senso il fatto che i cittadini comincino a fare la propria parte e quindi loro stessi a lamentare quello che non vai a denunciarlo pubblicamente per me è ragione di trasformazione culturale finalmente stiamo andando verso quella linea di senso civico il cui superamento ci fa pensare positivamente rispetto a una rinascita della città Catania ormai in questi ultimi anni si è affermata come città turistica, come città d'arte adesso lei ha lanciato un appello per sostenere la candidatura di Catania capitale italiana dell'arte contemporanea e ambizione, presunzione, riscatto, consapevolezza, cosa c'è dietro questo progetto? fare varie espressioni direi consapevolezza delle proprie potenzialità noi ci saremmo posti come capitale della cultura ma comprendiamo che ci sono anche dei meccanismi politici per cui essendo aggrigento la prossima e dovendosi ad aggrigento eleggere quella che sarà capitale della cultura fra due anni difficilmente ti sarebbe favorita una città siciliana siccome l'arte contemporanea è un'arte che noi a Catania abbiamo poco promosso mi piace invece lavorare in questa direzione dopodiché la verità è che noi disponiamo di un patrimonio formidabile che i catanesi non conoscono io come osservavo qualche giorno fa scrivendolo sulla mia pagina con molti miei amici, eravamo 55, siamo andati a fare la seconda tappa la prima l'avevamo fatta per l'Epifania accompagnati da una guida dai Benedettini alla biblioteca Corsino Recupero camminamento sopra la sghiesta di San Nicolo l'Arena che nessuno conosce ed è stupendo terme delle rotonde e terme dell'indirizzo io non ero mai stata alle terme della rotonda per esempio ecco, viaggiando in quei posti uno ha la netta consapevolezza di cosa sia la grandiosità di questa città al punto che mi verrebbe voglia di prendere per mano ciascuno di quei cittadini che invece non rispetta le regole, che buttano la spazzatura, materassi in mezzo alla strada mi prendere per mano e mi riporterei là per dire ehi guarda qua che meraviglia che abbiamo coltiviamola, curiamola perché questi processi di trasformazione del territorio noi riveliamo e sono significativi in alcune zone in particolare in via Prebiscito, a San Cristoforo dove una volta c'era il regno dell'incuria già ci sono alcune aree in cui i proprietari di casa hanno capito che possono fare economia affittandole, quindi trasformandole in strutture ricettive e non succede nulla a quei turisti è la dimostrazione di un percorso graduale lento ma graduale che ci porterà certamente verso orizzonti migliori governare gli italiani non è difficile e inutile è una frase storica attribuita a tanti personaggi hai mai pensato una frase equivalente con i catanesi? devo dire che molto spesso c'è questa tentazione io faccio sempre l'esempio che può sembrare insignificante ma è emblematico della cicca di sigarette perché quando io riprendo qualcuno per la cicca di sigarette sembra quasi che l'espressione istintiva sia sì ma ce ne sono tante ecco da noi c'è un degrado che si autorimenta per la difficoltà di molti a pensare di cosa sarebbe invece il contrario di quello che facciamo quindi a volte sì mi vengono dei momenti di scoramento io spesso affermo che questa mia esperienza mi ha insegnato il disturbo bipolare io alterno momenti di euforia momenti di depressione con la velocità delle montagne russe però cerco poi sempre di essere costruttivo perché non conosco la resa perché ho avuto quel consenso scusate, quel consenso di cui parlava lei prima e io non posso certamente flettere rispetto alla tentazione ogni tanto di abbandonare o comunque di avere un momento di demotivazione no, sempre autoalimento il mio spirito positivo e propositivo e cerco di andare oltre sono sorretto da una squadra meravigliosa che va nella stessa direzione i cittadini sono sempre più benevoli questo non significa che non siamo noi consapevoli di camminare in un negozio di cristallo e basti uno starnuto per mandare tutto in frantumi perché se poi analizziamo i problemi noi a fronte di risorse straordinarie per investire sullo sviluppo di Catania abbiamo delle difficoltà nella quotidianità per la manutenzione delle strade per la manutenzione dei marciapiedi per la manutenzione del verde che dobbiamo sostenere con spese correnti che sono assolutamente deficitarie se i catanesi comprendono il significato del pagamento dei tributi che potrebbero quindi consentire di beneficiare di servizi migliori se tutti quanti capissimo che è il momento in cui cominciassimo a pensare cosa possiamo dare non quel che possiamo ricevere a questa città già ci dicono alcune società come PricewaterhouseCoopers che dei fondamentali che hanno raccolto Catania è una città di quelle meglio messe in termini di proiezione nel futuro rispetto a uno sviluppo veramente importante a questo si aggiungono alcuni investimenti che spero presto verranno annunciati da parte di altre aziende nel nostro territorio e della zona industriale tutto questo è chiaro che deve farci essere ottimisti sulla possibilità che è quello che mi sta più a cuore che finalmente i nostri giovani anziché a partire capiscano l'importanza di stare a Catania investire sul territorio e quindi poter essere orgogliosi della loro Catanicità grazie a tutti e quindi